Siamo con coach Emanuele Cilio, coach di fatto finisce ufficialmente l'avventura con il Terramo Basket 1960, un esonero è sempre brutto, ti chiedo veramente la più scontata delle domande, che cosa provi in questo momento? Ma è difficile dare una risposta precisa perché ovviamente sono tante emozioni messe insieme, dispiace molto dal punto di vista sportivo perché sapevamo che la stagione sarebbe stata difficile e dispiace non poter andare fino in fondo perché io sono convinto che nonostante le difficoltà si potesse comunque arrivare a un risultato positivo, ovvio che deve passare per forza di cose ai play out visto come si è messa la classifica ma sono convinto che i ragazzi avrebbero lottato fino in fondo lo stesso, d'altro canto capisco la società, come ho già detto anche al presidente in un nostro colloquio, probabilmente da direttore avrei fatto la stessa scelta perché in un momento della stagione come questo o cambi mezza squadra e non puoi o comunque devi trovare il modo di reagire e purtroppo in Italia di solito salta l'allenatore e soprattutto se fai un progetto non troppo a lungo termine, magari non con i giovani ma sui più anni, giustamente il cambio lo fai sull'allenatore perché non hai tempo di aspettare. C'è un messaggio che vuoi lanciare anche in generale ai tifosi alla città di Terramo? No, posso solo che ringraziare per l'ospitalità perché in questi mesi mi sono trovato molto bene, soprattutto le visite personale, nell'ambiente, chiunque ho conosciuto, i presenti sono stato veramente trattato sempre benissimo, infatti credo di aver risposto sempre con entusiasmo, anche nonostante le mille difficoltà avute io sono sempre trattato al palazzetto dando il massimo, quindi so di aver dato tutto, ribadisco, dispiace com'è finita ma non posso essere contento dell'avventura tornassi a luglio lo rifarei senz'altro anche se è finita così. La tua carriera continua in questo momento, proprio nel futuro più immediato che cosa fai? Riposo oppure già si pensa ad altre tipologie di avventure, coach? No, in realtà il mio pensiero dei prossimi mesi è di studio, nel senso che la mia idea è ovviamente tornerò a casa ma sfrutterò questa pausa per andare a seguire un po' gli allenatori delle zone, Cantuva, Rese, Milano ma squadre sia di serie A che magari più basse in modo da seguire un po' di allenamenti, un po' di partite perché a me piace sempre dove posso apprendere, perché nel nostro lavoro secondo me se ti fermi stai già sbagliando invece io sono convinto che un allenatore può imparare da un allenatore di serie A ma come da un allenatore di C-Silver che fa una cosa fatta bene quindi sicuramente sfrutterò questo periodo di libertà proprio per continuare la crescita. Ultimissima, possibile un tuo ritorno qui in Abruzzo? Non chiudo nessuna porta, nel senso che comunque la mia speranza è di poter fare carriera e quindi sono convinto dei miei mezzi quindi ci proverò quindi se ci fossero offerte all'Abruzzo, perché no, l'ambiente mi è piaciuto.